Musica Un buongiorno, buon sabato, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa la rassegna stampa di mattino 6, in questo sabato 21 dicembre ci avviciniamo al Natale anche alla fine di questo 2019, allora andiamo a leggere come di consueto le principali notizie dei quotidiani abruzzesi ma non solo, in questa prima parte spazio alle prime pagine iniziamo con i giornali di casa nostra con le quattro edizioni del quotidiano Il Centro questa è l'apertura dell'edizione di Pescara con cui apriamo ovviamente in apertura la questione viadotti dell'A14 verso il dissequestro, code sull'autostrada e caos per i tir tra Silvio e Pineto ma partono i lavori, vedremo che questa sarà anche l'apertura della prima pagina del centro edizione Terramana, questa però è la prima pagina dell'edizione di Pescara in alto nei box Exilva, Governo e Mittal, un passo dall'accordo ovviamente parliamo della ciaieria di Taranto, torniamo in Abruzzo, bilancio il patto di Natale tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Scendiamo a centro pagina, Pescara festa in ospedale, il babbo Natale carabiniere porta donne e sorrisi ai piccoli ricoverati, in basso proprio sotto la foto consiglio urla e insulti tra PD e 5 stelle, scoppia la rissa in aula tra la grillina Alessandrini e i DEM, intervengono i vigili urbani, vedremo poi nella seconda parte anche il servizio che ricostruisce un po' questa vicenda particolare, nelle cronache Pescara e allarme, carcere, rogo e maxirissa con 30 detenuti, a Montesilvano ponte sul Saline aperto ad auto, pedoni e ciclisti, ieri c'è stata proprio l'inaugurazione, a Bussi la procura accusa di falso, il sindaco Lagatta. E poi in altri due box che vediamo, Roseto vince la sfida verde tra 800 studenti abruzzesi, campioni del ciclo dei rifiuti, l'Inps Abruzzo invece quota 100 non crea nuovi posti di lavoro, in pensione sì ma senza ricambio evidentemente. Cambiamo edizione, andiamo sulla prima pagina del centro edizione di Chieti che si proietta già le elezioni amministrative, siamo nell'ambito del centrodestra, Di Stefano il centrodestra frena, Chieti corsa sindaco, la Lega aspetta Salvini, Fratelli d'Italia e Forzisti dicono pronti anche noi. Sanità nella foto, ecco l'attacca di ultima generazione veloce ed esplorativa, siamo all'ospedale Sampio di Vasto, presentato il nuovo macchinario. Come vedete sotto la questione viadotti che vanno verso il dissequesto è stata spostata sotto la foto di centro pagina. Nelle cronache il teatro di Chieti, Febbo riceve le chiavi del Marruccino, a Lanciano in arrivo 60 assunzioni in comune. E poi l'ex senologo di Ortona a Cianchetti il premio 28 dicembre. Edizione di Teramo del centro, come avevo detto l'apertura rimane la stessa, ovvero i viadotti della 14 verso il dissequesto che stanno creando tantissimi disagi ai viaggiatori e non solo in autostrada. La foto di centro pagina, aperto alle auto, il terzo ponte sul Saline che guarda verso Silvi, ieri l'inaugurazione con Marsiglio. Anche di questo parliamo poi nella seconda parte, vedremo il servizio riassuntivo. Nelle cronache siamo a Teramo, case agli sfollati, la graduatoria non cambierà. A Roseto, lavori fermi, impresa chiede 100 mila euro. Sempre nelle cronache note agli alunni che non vestono i colori giusti. Sotto la foto l'imprenditore Palumbi torna libero, arrestato nell'inchiesta su appalti e tangenti ad Ancona, revocati gli arresti domiciliari. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana, fondi UE, inchiesta della finanza, l'Aquila, cinque imprese agricole nei guai per averli usati per altri scopi e non quelli a cui erano destinati. La foto, Murgo, il libraio del terremoto nominato ufficiale da Mattarella. Questo è il riconoscimento per l'aquilano Alfredo Murgo. Nelle cronache siamo all'Aquila, scuola è assolto del Corvo, quattro anni all'ex DG Specchio. Ad Avezzano, invasione di bancarelle per la fiera a Sulmona, differenziata, i dati premiano il Cogesa. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulla prima pagina del messaggero. Questa l'apertura, bilancio scritto a mano e scontro. Di cosa si parla? Regione Centrosinistra e Cinque Stelle contestano gli atti della manovra, sono nulli. Supernomina di Paolo Gatti alla Corte dei Conti, arriva il via libera. Marcozzi accusa. Nel box Pescara consiglio, il presidente chiama i vigili, caos in consiglio comunale a Pescara. Di spalla, profumo di festa, Natale, spesi 322 milioni per gli alimenti in Abruzzo. Saliamo sotto la testata per vedere il paradosso, riconoscimento dell'UNESCO, ma la montagna è poco accogliente. Avezzano organizza la festa di laurea, ma aveva dato solamente pochi esami e poi per lo sport, calcio serie B. Pescara, Delfino e il regista Palmiero sarà del match con il Trapani che si giocherà domani pomeriggio. Scendiamo a centropagina, come vedete anche qui, questione che riguarda la viabilità. Quel viadotto è sicuro, Ponte del Cerrano, le garanzie di autostrade che dicono che il viadotto del Cerrano, chiuso al traffico pesante dalla procura, invece è sicuro. Rigopiano, l'arma alla polizia, non avete preso il brogliaccio, richiesta d'aiuto ignorata al centro dello scontro istituzionale. E poi, altri spunti, Teramo, Naselli accusato di violazione di segreti d'ufficio. A Giulianova, Santoleri, scrive un libro, la condanna mi uccido, così ha scritto, minacciando il suicidio Simone Santoleri. In basso siamo ad oricola, Coca-Cola blocca gli investimenti. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano della città, dunque siamo in provincia di Teramo, l'apertura è dedicata alle case agli sfollati, i conti non tornano, l'Ater ne ha acquistato 80 su 147, il sindaco di Teramo ricorda che ne erano state promesse molte di più. viabilità a centro pagina, quella che viene definita una paralisi adriatica, i mezzi pesanti creano caos sulla statale 16 in virtù dei divieti sulla A14. L'inchiesta di ancora dopo un mese torna libero l'imprenditore Carlo Palumbi, a Teramo arrestati due truffatori di carte bollate. dall'altra parte l'intervista a Quagliariello spinge sull'asse tra Teramo e l'Aquila. Per lo sport il Teramo arrivi solo dopo le partenze, tra poco si aprirà il mercato di gennaio per il calcio professionistico. Siamo in Val Vibrata, a Nereto, impianto per rifiuti liquidi, i verbali tornano al via. A Giulianova tutti d'accordo sul nuovo polo scolastico, al Tribunale e infine a Silvi. Grande festa per il taglio del nastro, per il terzo ponte sul Saline. Andiamo adesso a dare un'occhiata ai quotidiani nazionali. Anche qui le prime pagine, il Corriere della Sera, questa è l'apertura. Caos nei Cinque Stelle, fughe accuse, vertice da Di Maio. Buffagni, serve il vincolo di mandato. Salvini sul caso Gregoretti, scelte di tutti. E poi in basso l'assessore Elandrangheta, patto per i voti in Piemonte, arrestato rosso di Fratelli d'Italia. Otto le misure cautelari. E poi vediamo anche il primo accordo con Mittal, stiamo a parlare di ex-Ilva. Ilva garantirà il governo, intesa con i commissari, sindacati però critici. Andiamo sulla prima pagina di Repubblica. Di Maio blinda il governo, patto per il 2020, leader dei Cinque Stelle, attacca i ribelli. Chi rema contro fa solo male al Paese. Svolta sulla Popolare di Bari, Bari ex-presidente indagato per corruzione sotto la lente dei magistrati, i rapporti di Iacobini con ispettori di Banchi Italia. Il fatto quotidiano. In Piemonte un voto costa 7 euro, in Calabria 10. Dopo Catanzaro, retata anche a Torino, arrestato rosso, assessore regionale di Fratelli d'Italia. Comprò 2.000 voti per 15.000 euro dall'Andrangheta. E poi vediamo anche, ecco perché, tante resistenze sul reato di voto di scambio. Libero, la borsa italiana batte tutti. Prima in Europa, terza nel mondo. Da inizio anno, piazza affari è cresciuta. Del 31% è la rivincita delle imprese su una miserabile classe politica, che nonché la prova, che chi fa affari non crede alla balla del pericolo sovranista. E la borriosa Germania, la patria dei poveri, altro che il nostro paese, scrive libero. E poi, la foto di centropagina. Meraviglia, bellissima e intelligente. Smentiti i pregiudizi maschilisti e femministi. Evviva, una scienziata, esperta di farmaci, incoronata Miss America. Il messaggero, la prima pagina nazionale, cambia l'apertura. All'Italia, sei mesi o si chiude. Intervista al ministro Patuanelli, erogati 400 milioni. FS in cordata, verovi dallo Stato, e sfida a Lufthansa, Air France. Niente spezzatino, sarà una holding su Ilva. Accordo chiuso, saranno azzerati gli esuberi. E le prove di spallata al Senato di Maio remano contro il paese. Il caso rimborsi spinge 7 del Movimento 5 Stelle verso la Lega. Gregoretti, Salvini, appeso al voto dei Renziani. Altre notizie. Medici in pensione, allarme Lazio. Pochi nei pronto soccorso. Nei prossimi 5 anni, in uscita, la metà dei sanitari in tutta Italia. E le regioni sono a rischio. Per lo sport, ieri c'è stato uno degli anticipi del venerdì. La Roma, prova di forza, 4-1 con la Fiorentina. A traguardo, quarto posto, Lazio. Domani, la Supercoppa Riad contro la Juventus. Il mattino, lo Stato salverà l'Ilva. L'intervista a Patuanelli. Maggioranza Mittal pubblica una quota importante. Con il piano green, produrremo 8 milioni di tonnellate. In 4 anni, 0 esuberi. E poi, disabile, violentato nel centro d'aiuto, arrestato un prete. La denuncia shock dall'Istituto Orione di Ercolano. La vittima conferma. Don Roberto dice, è tutto falso. Il giornale, Conte come prodi, ostaggio del PD. Il Premier giura amore alla sinistra, che lo userà e lo scaricherà. E sulla prescrizione è ancora guerra. Grillini isolati. A centropagina migranti. Il governo sapeva, Renzi tentato dal Salva Salvini, la legale prove dei colloqui. Sul caso Gregoretti, Carfagna alza la sua voce libera, ma i big disertano il sole 24 ore. Grandi crisi. Il conto arriva a quota 5,9 miliardi. I salvataggi popolari di Bari all'Italia ex Silva sono i malati d'Italia. Porto di Genova, via i cantieri, rete stradale a Pizzarotti. Tempi record per l'inizio dei lavori da 200 milioni. Renzi, l'intervista. Piano shock per le infrastrutture. Intanto, energia, accordo tra Russia e Ucraina sul transito del gas verso l'Europa. 3 miliardi sono i dollari che incassa ogni anno l'Ucraina per il transito del gas russo destinato ai paesi dell'Europa. Ex Silva, un agnucco per il rilancio Green, il caso Taranto. Il tempo scatta la corsa dei PM su Roma. Poltronissime in paglio. È partito l'invito per le candidature alla successione di Giovanni Salvi alla Procura Generale. È la poltrona più ambita perché lavora con i servizi. A CSM Prestipino in testa per la Procura. Fratelli d'Italia, lotteria di beneficenza. Chi vince a tavola con Giorgia Meloni che però, come vedete nella vignetta satirica, dice solo una cena e basta. La stampa, Piemonte, Ndrangheta, nelle urne affari all'ombra della regione. In cella l'assessore rosso di Fratelli d'Italia, compro voti. Cirio dice non lo volevo. Otto in carcere, coinvolti imprenditori ed esponenti delle cosche. Meloni dice fare piazza pulita. E poi la parata dei 32 eroi quotidiani che fanno grande l'Italia. Ne vediamo alcuni in foto. I 32 eroi civili scelti da Mattarella perché meritevoli di un grazie collettivo. Il manifesto è colanda sul clima sentenza storica proprio nei Paesi Bassi. I giudici dell'AIA condannano lo Stato per violazione dei diritti umani. Entro un anno dovrà ridurre le emissioni di CO2 del 25%, la vittoria degli 886 cittadini che avevano denunciato il governo per non aver tutelato la salute e l'ambiente. Ecco perché questo titolo è colanda. La sorte di Salvini nelle mani di Renzi, caso Gregoretti per l'autorizzazione a procedere, i dubbi dei renziani sul voto. E poi mafia e politica alla regione Piemonte, arrestato l'assessore alla legalità. Il secolo.it contro ogni mafia, coraggio da leader nella netta posizione di Giorgia Meloni sull'assessore che aveva sbagliato, partito. Questa è la reazione ovviamente del quotidiano che fa riferimento proprio a Fratelli d'Italia per la vicenda piemontese. La verità, i clandestini rendono anche da morti il business dell'immigrazione. Non finisce mai, secondo le carte della Maxi inchiesta sull'Andrangheta, coordinata da Nicola Gratteri. Le cosche lucravano pure sui cadaveri dei naufraghi. Avevano organizzato un racket nei cimiteri per aggiudicarsi i bandi delle sepulture e così si spartivano le salme. Grillini scatenati intanto contro Salvini sui porti chiusi. Il ministro Bonafede dice processatelo. La foto. Votare serve. Johnson porta il Regno Unito a un passo dalla Brexit. Dopo la vittoria nelle elezioni di qualche giorno fa, il premier britannico Boris Johnson ha confermato con il voto l'intenzione di uscire dall'euro. Ilva, i Mittal, dettano le condizioni a Conte, parte la trattativa Stato-Indiani, si va verso una struttura pubblico-privato, ma resta il nodo degli esuberi. L'avvenire. Ecco l'Italia del bene che fa la cosa giusta, onorificenze al merito ai piccoli eroi del quotidiano e a chi si spende per gli altri, dai salvataggi all'impegno per i poveri e tossicodipendenti, i 32 comportamenti esemplari. I voti dell'Endrine scossa in Piemonte, arrestato l'assessore Roberto Rosso e Fratelli d'Italia, lo espelle. L'appello del Papa, vediamo all'ONU, curiamo le ferite del mondo, odio religioso, conflitti, fame e abusi, gridano vendetta. Adesso andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, iniziamo con la Gazzetta dello Sport, questa è l'apertura, Inter sulla testa e poi Vidal. Doppio assalto, Conte tra campionato e mercato, a San Siro alle 18 c'è il Genoa, in campo con i baby Esposito e Agume, Lukaku deve rispondere a CR7 con una vittoria, sarebbe agganciata la Juve e Marotta spera che il Cileno rompa con il Barcellona. Un Milan da Matic, ovviamente le questioni di mercato iniziano a farsi sentire con maggiore insistenza, Maldini all'assalto, il serbo del Manchester United, il botto per il nuovo anno in casa rossonera. In alto è una Roma da favola, Montella addio, al Franchi Fiorentina battuta 4 a 1, poker giallorosso, Pellegrini, Zagnolo, Coppiadoro, la squadra di Fonseca domina, la Viola valuta il tecnico, possibili sostituti di Biagio o Prandelli. In alto la Ferrari 2020 sarà più carica per volare in curva, in discrezioni sulla macchina del prossimo anno che evidentemente deve avere maggiore carico aerodinamico. In basso non c'è solo il campionato di Serie A, c'è anche la Supercoppa Ariad, Supercoppa da Sceicchi, domani Juve Lazio, Ariad, Giovinco e Briatore ci raccontano come sarà. Il Corriere dello Sport, l'apertura in alto, Alta Roma, Montella senza futuro, grande dimostrazione di forza dei giallorossi, Zagnolo, golle assist, Pellegrini e Geco trascinano la squadra, Fonseca applaude, ma è così belli, mentre Montella come vediamo è in uscita. E poi a centropagina questa apertura, Gero Vidal, ironizzando un po' sul famoso anti-età, Marotta vuole accontentare nuovamente Conte e Arturo la formula anti-vecchia signora. l'Inter accentua le pressioni per indurre il Cileno a lasciare il Barcellona, la prima alternativa è De Paul, stasera alle 18 la sfida al Genoa. E poi, e parole di Gigi Buffon, cara Lazio, ora troverai un'altra io, è la finale di Supercoppa giocata proprio dal portiere della Juventus, quella che viene definita da Roberto Perrone e Sarri Inzaghi, una sfida di idee. Siamo in casa Napoli, De Laurenti Smertens, prove d'intesa per il rinnovo del contratto del Belga. Tutto Sport, Expo Juve, sfida tra Sheikhi, Ronaldo contro Immobile, accoglienze trionfali per CR7 e Bianconeri, Immobile e Laziali, Romigai ex manager Juve, la Serie A è seguitissima nel mondo arabo. Questa è una splendida occasione per conquistarne il mercato sempre più ricco. A centro pagina la foto molto grande di Belotti, Toro l'Europa per tenere Belotti. Gallo torna a titolare stasera contro la Spal, ma il suo futuro in Granata dipende da un progetto di alto livello. Grande Roma, Ciao Montella, Show Giallo Rosso a Firenze e poi Conte Vede Doppio, primo posto e Kulusevski alle 18 Intergenoa e poi ci sarà il mercato. In basso sullo snowboard con il cuore in gola, in pista con gli Azzurri. Bene, questa era l'ultima notizia per le prime pagine ovviamente, con cui chiudiamo la prima parte solamente di Mattino 6. Adesso spazio alle previsioni del tempo, la pubblicità e poi torniamo insieme per sfogliare i quotidiani di casa nostra. Seconda parte di Mattino 6 di nuovo insieme per iniziare a entrare all'interno dei nostri quotidiani. Ripartiamo con pagina 13 del centro, che è la pagina Abruzzo, come vedete nomine e bilancio. Le galeati firmano il patto di Natale, la maggioranza incassa il sia a gatti e stacca la spina. La manovra va direttamente in consiglio senza l'ok della commissione e Legnini attacca, atto illegittimo. Il consigliere rompe il silenzio con il resto del centro-sinistra, che boccia la manovra. Pagina dedicata allo scontro sul bilancio anche sul messaggero, siamo pagina 41, Regione, il papello alla Corte dei Conti, dovete bocciarlo. Centro-sinistra e 5 Stelle contestano la delibera che è stata scritta a penna, si tratta del documento che inserisce nella manovra i progetti cari alla Lega. In basso, invece cambiamo decisamente argomento, quei tesori della natura dimenticati, il miraggio dei contratti di fiume. Andiamo avanti, a Pescara risa sfiorata tra Cuzzi e la Alessandrini. La consigliera Pentastellata reagisce a una battuta su Di Maio, ricordando le grane giudiziarie dei consiglieri di centro-sinistra. Il pare della grillina interviene in suo soccorso, seduta sospesa tra le urla, vergogna, cialtroni, intervengono i vigili urbani. È una notizia che troviamo anche sul centro. Consiglio, la seduta sul bilancio scoppia la rissa tra 5 Stelle e PD. Insulti tra Alessandrini e Idem. Interviene il papà della grillina, il Presidente Antonelli ferma i lavori e chiama i vigili urbani, l'ufficio di presidenza, peraltro acquisito le registrazioni e la seduta consigliare per verificare se ci siano gli estremi per applicare delle sanzioni. Noi c'eravamo, abbiamo realizzato il servizio riassuntivo proprio su questa vicenda. Bagar questa mattina in Consiglio Comunale a Pescara dove il Presidente Marcello Antonelli è stato costretto a sospendere i lavori e a richiedere l'intervento della Forza Pubblica. Lo scontro ha riguardato la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini da una parte e i consiglieri del centro-sinistra dall'altra. Insieme al Governo nazionale i due gruppi sono entrambi all'opposizione a Pescara. È molto sgradevole che vengano utilizzate vicende personali nell'ambito di una discussione che non riguarda affatto queste vicende, ma che riguarda il documento unico di programmazione. Vuol dire che la consigliera Alessandrini era in totale assenza di argomenti e quindi non poteva fare altro che trovare un modo per colpire dei consiglieri comunali che peraltro sono semplicemente indagati e stanno svolgendo serenamente la loro attività di difesa nei loro singoli processi, come nel mio caso, che non hanno nulla a che fare con l'attività politica. Io non ho attaccato i miei colleghi sul fronte giudiziario, ho risposto a delle provocazioni che vanno avanti da tempo. Oggi in Aula si faceva riferimento ad un emendamento che evidentemente coglieva, riproponeva questioni sempre appartenute al Movimento 5 Stelle come la partecipazione della cittadinanza alla programmazione urbanistica e quindi ho sottolineato in Aula come il PD passato in opposizione fosse stato colto, fulminato sulla via di Damasco dal fatto che ora che è in opposizione la partecipazione può essere proposta e può essere valutata, mentre quando erano in maggioranza si sono guardati il bene dal considerare effettivamente la partecipazione dei cittadini come un'azione con cui procedere. Detto questo, l'intervento successivo a questa dichiarazione da parte del consigliere Cuzzi ha evidenziato come, ironicamente appellandomi come la facilitatrice del Movimento 5 Stelle e come appartenente ad un partito il cui capo politico è un venditore di bibite allo stadio, ha ritenuto di dover sottolineare quante azioni politiche di estremo rilievo e favorevoli e benefiche sono state fatte dal PD, dovremmo andare tutti in Emilia Romagna a vedere quante cose buone ha fatto il PD. E a questo ho semplicemente risposto che infatti bisogna arrivare fino in Emilia Romagna per vedere qualcosa di buono fatto dal PD perché purtroppo la realtà locale invece è fatta da esponenti che sono sottoposti quasi tutti a azioni giudiziarie in corso. E rispetto a questo sono stata letteralmente aggredita da sette consiglieri di minoranza che si sono sollevati urlandomi contro e da lì è partito uno scontro generale di maggioranza e dell'opposizione di centrosinistra che ha cominciato ad insultarmi. Eccoci rientrati, cambiamo argomento, meglio, ex cofa, rimaniamo a pescare, ex cofa area di risulta via libera al piano, approvato in tempi record il documento unico di programmazione che contiene i progetti per la città. Capodanno, il programma per le feste, i concerti cancellano 400 posti nell'area di risulta, il 31 dicembre 1 gennaio stop al traffico davanti alla stazione in un tratto di Corso Vittorio, aperti i parcheggi sulla strada Parco, Marco Papa, Vemo e gli stadio sono le star delle due serate. Il nuovo bando del comune, case popolari, spazio e disabile, porte chiuse per chi viola le regole azzerate dopo quattro anni le graduatorie precedenti, prime assegnazioni in via caduti per servizio, domande entro il 17 febbraio esclusi, chi ha occupato gli alloggi senza titolo e chi ha commesso reati e qui vediamo anche i principali requisiti per la partecipazione. Carcere rissa con 30 detenuti, malori tra gli agenti per un ruogo e allarme a San Donato, il sindacato torna a denunciare il sovraffollamento e le carenze d'organico. Prima la lite nella sezione a regime aperto, il giorno dopo l'incendio nelle celle di isolamento. Di spalla vediamo l'autopsia conferma, donna morte nel casolare è stato un incidente. In basso ragazze prese dopo il furto fallito, bloccate dalla polizia in via Lebovio. Il parole di casa indica per telefono al 113 la via di fuga delle ladre. traffico in tilt, la Tiburtina bloccata da un incidente, traffico in tilt per mezz'ora. Poi sempre a Pescara un cenone per 150 poveri nella chiesa del mare per la vigilia di Natale. Parrocchia Sacro Cuore e Associazione Papa Giovanni XXIII invitano le famiglie in difficoltà di Pescara e le persone senza fissa dimora. In alto col diretti prepara il parrozzo al mercato di via Paolucci. E poi volontariato premiate 22 associazioni pescaresi in basso, doni e dediche alla fondazione Paolo VI, cerimonia natalizia di famiglie e operatori del centro adriatico con l'arcivescovo Valentinetti. Babbo Natale Carabiniere incanta i bimbi ricoverati, ladricesta consegna i regali ai piccoli costretti a passare, le feste in ospedale, nei reparti militari distribuiscono giochi con i musicisti del Conservatorio. Bellissime iniziative, vedete anche le foto più belle. Di fianco partenza da Piazza Salotto, Babbo Natale arriva in Vespa, domani il tour tra i quartieri. A Montesilvano festa per il terzo ponte sul Saline e Marsiglio, una sfida verso il futuro. Aperto il viadotto intitolato a Filomena degli Castelli che unisce Montesilvano a Città Sant'Angelo. Sindaci, Presidente e tanti cittadini al taglio del nastro, bici, auto e pedoni sulla nuova infrastruttura. E allora, anche in questo caso, vediamo il servizio della nostra redazione. Bagno di folla per il taglio del nastro del terzo ponte sul Saline a Montesilvano. Le massime autorità politiche hanno partecipato all'inaugurazione di quest'opera fortemente voluta dalla provincia di Pescara e anche dalla regione Abruzzo. Un'opera che servirà a snellire il traffico viario, soprattutto nella zona nord di Pescara, nell'area metropolitana e a ridosso dei comuni di Città Sant'Angelo e Montesilvano. Diamo sfogo a un'altra alternativa nei percorsi di viabilità che potrà sicuramente contribuire ad alleggerire il traffico, a rendere più scorrevole i collegamenti nell'area metropolitana a nord di Pescara ed è un altro tassello importante per l'Abruzzo che cresce. Abbiamo trovato quest'opera incagliata per varianti progettuali e problematiche di vario tipo. Siamo riusciti nel giro di poco tempo a reperire oltre 3 milioni di euro per completare l'opera perché tanti ne sarebbero serviti. Abbiamo fatto uno sforzo importante. Se non lo avessimo fatto questo sarebbe diventato un altro monumento alle incompiute e agli sprechi della nostra Repubblica. Per noi siamo un punto di orgoglio di riuscire a dimostrare con un lavoro silenzioso, faticoso ma efficace che le cose si possono fare e che i cittadini possano ricevere le risposte che meritano. Con questo ponte si chiude un importante appalto che risale al 2013. La prima consegna dei lavori per i tre ponti sul Saline risale a novembre 2013. Nel corso di questi anni ovviamente i primi due ponti si sono aperti e hanno già dato i loro frutti per la viabilità. Con questo terzo ponte che è un ponte importante e strategico ma lo diventerà ulteriormente quando poi, come hai detto giustamente tu, la ciliegina sulla torta si va a collegare Silvi Marina a Montesilvano e Città Sant'Angelo. Questo diventerà veramente strategico per le due comunità perché Silvi non sarà più isolato, Montesilvano non sarà più isolato e dà molta più fruibilità soprattutto al turista che interviene su questa nostra zona. Questa è un'opera che è partita molto molto tempo fa. Almeno tre governi provinciali e almeno tre giunte regionali compresa questa che ha appena iniziato la sua attività. È un'opera strategica bellissima dagli enormi contenuti tecnologici, moderna ma soprattutto molto utile come lei ha raccontato che rischiava di rimanere un'incompiuta però perché come spesso avviene in Italia si erano affastellate le procedure tecniche. Il progetto ha subito molti cambi per via della presenza di fattori ambientali contrari e quindi i costi erano lievitati. Fortunatamente aveva vinto una ditta particolarmente solida e con il cuore ben radicato su questo territorio e di conseguenza il nostro arrivo ha portato alla semplificazione delle procedure con il nuovo governo provinciale e al rintracciare le risorse necessarie per poter completare quest'opera che oggi non è un'incompiuta, è una realtà che ulteriormente si completerà con la nuova strada che va verso Silvi. A quel punto tutto questo enorme tappo di traffico che si crea in questa zona sarà fluidificato con un evidente vantaggio dal punto di vista della qualità della vita, delle imprese, delle attività commerciali e di tutto ciò che produce economia. Notizia questa che ritroviamo anche sul Messaggero. Un ponte in più sul Saline, apertura con polemiche, leggiamo il box, è stato intitolato a Filomena degli Castelli dagli ambientalisti, no al passaggio delle auto. In alto, forestali polizia, guerra sulle telefonate, la controoffensiva dei carabinieri, ovviamente parliamo di Rigopiano, la controoffensiva dei carabinieri, indagati per la chiamata fantasma, punta il dito sull'operato di squadra mobile e vertice della questura. La mala di Natale, furti in casa, arresto bis e sorprese e maggiorenne, la ROM, dei colpi seriali. Torniamo sul centro, andiamo a Francavilla che è pronta per la bandiera blu, la decisione ad aprire, consegnata l'ultima parte della documentazione a Roma, il comune ottimista. Il riconoscimento manca dal 2014, mentre al Mummi, come vediamo, c'è il festival, la festa della solidarietà. Bussi, il sindaco accusato di falso sulla cessione dei terreni inquinati, chiesto il processo per la Gatta, l'assessore della Neve, due tecnici comunali e il rappresentante della Solvè. Nel Mirino, il contratto di passaggio del comune ha la cifra simbolica di un euro di aree ancora da bonificare. Loreto, no definitivo al biometano, progetto naufragato, il sindaco, occasione persa anche per rifare strade e parchi. Siamo a Chieti, la corsa sindaco, l'attesa per la svolta, Salvini lancia Di Stefano, ma il centrodestra frena. Il leader della Lega domani in città, Fratelli d'Italia e Forza Italia, anche noi siamo pronti. Tra i papabili, anche l'assessore Carla Di Biase, il presidente del Consiglio, accetto. Intanto Udc spaccato, i tre fedelissimi di Di Premio, pronti a fare una lista civica. Di spalla, avvasso, nuovi attacchi in ospedale, esami veloci ed esplorativi. Sempre a Chieti, il blitz, stroncato lo spaccio, scoperti funghi allucinogeni per i rave, coppia finisce in arresto. La casa in centro, trasformata in un market di droghe sintetiche, sequestrati 2.500 euro, festa illegale a rapino, caccia agli organizzatori del raduno abusivo. Siamo a Teramo, i viadotti dell'A14 vanno verso il dissequestro, dunque una svolta imminente. La società autostrada è presente ai progetti esecutivi per sostituire subito le barriere. Si comincia dal tratto marchigiano, anche perché Silvio Pineto nella morsa dei tir, il sindaco Scordella di Silvi dice utilizzeremo ogni mezzo per tutelare i cittadini, giorno di passione sulla strada statale 16. Il picco però è atteso dopodomani, lunedì. Ieri esodo per le feste, è stato drammatico, 8 km di coda in direzione sud tra Giulianova e Pescara. Andiamo avanti, vittima dell'usura in aula, la mia vita un inferno, imprenditrice a Silvi racconta Interessi del 600% non finivo più di pagare. A processo la coppia di Giulianova, la donna costretta a assumere anche un loro figlio. A Silvi, sempre, pista ciclabile, si dell'aggiunta al progetto esecutivo. A Roseto, lavori fermi, ditta, chiede Max Indennizzo per lo stop del cantiere alla villa comunale. L'impresa appaltatrice vuole oltre 100 mila euro. Sempre a Roseto, in basso, revisione non superata, due scuolabus restano fermi. Andiamo avanti, siamo all'Aquila, fondi europei, imprese agricole nei guai, sequestrato mezzo milione, indaga la finanza, sono accusate di aver usato per altri scopi soldi destinati al solo sostegno delle attività, rudere trasformato in una mega struttura. Eversione, confermati sei anni a Manni, il capo indiscusso di Avanguardia, ordinovista, progettava attentati politici e alla sede di Equitalia. Appalti scuole, assolti del Corvo e altri nove, scagionati l'ex presidente della provincia, tecnici e imprenditori, uso illecito di Auto Blu, quattro anni all'ex manager. Specchio, le motivazioni come vediamo tra 90 giorni, intanto, autotrasportatore aquilano, ubriaco alla guida, fermato durante un controllo della stradale. Mattarella, il libraio murgo diventa ufficiale, il capo dello Stato consegnerà l'ordine al merito della Repubblica per l'impegno post-sisma. In basso, candidato sindaco, occhi puntati su Chieti, la nomination del leghista di Stefano potrebbe dare il pass a Forza Italia per le elezioni ad Avezzano. Qui siamo allo sport e allora torniamo sul messaggero, andando proprio all'Aquila, rimanendo all'Aquila, Natale, tutti nella casetta, giocattoli per i bambini malati, profumo di festa, show, quiz ed elfi per i piccini nell'allestimento al palazzetto dei nobili, di spalla il bilancio, campo imperatore, lo storico albergo potrebbe passare al CTGS, da questo al comune. Fondi UE, il magazzino diventa sala per degustazione, addirittura qui abbiamo altri dettagli, illecito utilizzo dei finanziamenti post-terremoto, la finanza denuncia 5 imprenditori. In basso, lo scheletro del mammut esposto al Munda. La montagna diventi più accogliente, il riconoscimento dell'UNESCO all'alpinismo non basta, le autorità devono rimuovere i troppi e inutili divieti, il sistema Abruzzo adesso può diventare più inclusivo in modo che scalatori ed escursionisti non siano degli intrusi. Murgo, il libraio premiato da Mattarella, l'abbiamo già visto anche sull'altro quotidiano, in basso Harry Potter alla villa con Alessia e Fabiani tra gli eventi e poi Sherlock Holmes, il giallo interattivo. Scuole appalti, una sola condanna a 4 anni a un ex manager della provincia per l'utilizzo privato di un'auto dell'ente, del teleposte e della carta carburante. Truff, assolto l'ex presidente Antonio Del Corvo e altri 9 imputati, in molti casi è intervenuta la prescrizione. Siamo ad Oricola, Coca-Cola Italia, il manager Pierini, bloccati 49 milioni di investimenti. In basso, nella Marsica, organizza festa di laurea ma non aveva dato gli esami, una studentessa si è presentata a Chieti, devo discutere la tesi. E poi Cogesa, ASM e Segem verso la fusione, in Margiotta serve una grande società. A Chieti, mense buco di 180 mila euro, in partenza raffica di solleciti al via centinaia di controlli sulle dichiarazioni dei modelli ISEE. Il 27 riunione all'osservatorio, un'app, servirà a centralizzare gli ordini. L'assessore di Biase, sistema virtuoso ed equo. Gli eventi a teatro, fascino a rotelle, ispirata a Simona Petaccia. E poi, sempre a Chieti, Marche della droga in centro, la mobile arresta una coppia. Corte dei conti, amministrazione corretta sui residui. Siamo a Vasto, ecco l'Attac che taglia le liste d'attesa. Ieri l'inaugurazione e abbraccio tra Shella e il sindaco Menna, le applicazioni tecniche da cardiologia allo studio dell'Ictus. L'assessore Veri, un risultato che rende orgogliosi abbiamo operato per il bene dei cittadini e il primo dei nostri obiettivi. Ex Blutec, tutte le intese sottoscritte. L'incontro ieri al Ministero del Lavoro. A Teramo, Drangheta, il rapporto confidenziale di Naselli, l'ex comandante dei carabinieri arrestato, forniva informazioni segrete. Il colonnello invitò a cena a Teramo, l'ex senatore e un esponente della Cosca. Sisma, il sindaco. D'Alberto dice che le case assegnate non si toccano. Poi vedremo che, troveremo la notizia anche, tra poco cambieremo quotidiano sulla città, sarà l'apertura del giornale. E poi colpo di scena in consiglio a Giulianova, Giulia Reti, buco da un milione. L'indagine, truffa d'anziano, due arresti, in basso, lavoro, sportello, performazione e creazione, imprese. Andiamo proprio sul quotidiano della città, la ricostruzione case agli sfollati. I numeri non tornano, l'Ater per ora acquisito dai costruttori, 80 immobili, 24 a Teramo sui 147 previsti, 87 per l'appunto a Teramo. Facciamo il punto noi, invece, della situazione con il prossimo servizio. È il terzo Natale fuori casa per gli sfollati teramani, la maggior parte dei quali è rappresentata dagli inquilini Ater. Proprio in questi giorni, però, l'azienda di Teramo ha proceduto all'acquisto di circa 140 nuove abitazioni, appartamenti ubicati nei comuni di Teramo, Mosciano Sant'Angelo e Montorio Alvomano. Le chiavi saranno però disponibili solo con l'attuazione dei bandi di assegnazione effettuati dai rispettivi comuni. Ci sarà purtroppo da aspettare ancora e gli sfollati chiedono al sindaco d'Alberto certezze e conferme. L'Ater acquista le prime case per gli sfollati e voi avete qualche perplessità? Sinceramente sì, perché fino a quando non abbiamo le chiavi, come fai? È già un primo passo. Sì, se è così è, sì. Oggi cosa chiederete al sindaco? Siccome è uscito sul giornale, che non si deve dare retta a queste cose che illudono i terremotati, chiederemo qual è la verità. Che risposte darà ai 53 assegnatari? Intanto questa è una riunione necessaria per fare chiarezza sulla situazione. Come è noto c'è un bando per l'assegnazione degli immobili che è stato effettuato qualche mese fa su richiesta della protezione civile della regione. Ora sono state annunciate nuove, diverse, altre case acquistate dalla protezione civile con l'Ater e quindi è giusto che ci sia questo passaggio per fare chiarezza, per dettare insieme i tempi, confrontarci anche su quelle che sono le assegnazioni che sono state fatte e con grande serenità soprattutto per i cittadini che hanno bisogno di certezza e chiarezza e questo incontro è assolutamente opportuno. A Teramo per esempio la procedura di assegnazione prevedeva 53 nuovi alloggi. Purtroppo si è dovuto rinunciare all'acquisto di alcune case a San Nicolò a Tordino a causa del fallimento dei costruttori. Di conseguenza non è chiaro quali e quante saranno le unità abitative definitive e se procedere con lo stesso bando o rifarlo da capo. In questo caso i tempi si allungherebbero di molto, una burocrazia che ha consumato l'ultimo briciolo di speranza di tanta povera gente. Nel sindaco ho fiducia, ho tantissima fiducia, vediamo che cosa ci dice stamattina, non cegniamo niente di più. Rimaniamo a Teramo, bloccato l'accorpamento tra Milli e Pascal Comiforti, dimensionamento scolastico, passa la linea dei docenti del liceo e del preside di Bonaventura. Di spalla, arrestati i due truffatori, falsificavano atti giudiziari. L'imprenditore, cambiando pagina, Carlo Palumbi, torna in libertà, revocati gli arresti domiciliari al costruttore coinvolto nell'inchiesta sulla corruzione al comune di Ancona. Generiamo rispetto per l'ambiente. ADSU, Proveditorato e Provincia premiano i progetti scolastici del concorso di idee. Ma torniamo sul messaggero per vedere la situazione sulle autostrade. Perché vediamo proprio che Autostrade parla del viadotto del Cerrano, quel viadotto è sicuro. Il Cerrano è continuamente monitorato con speciali sensori che non hanno mai rilevato movimenti. Movimenti. Il sindaco di Silvi è arrivato inaspettata l'interdizione al traffico di bus e tira. E non sono state date tutte le rassicurazioni. Ovviamente ieri, come vedete, anche dalle foto, file lungo la galleria. Riduzione di corsie, tantissimi davvero. I disagi per chi viaggia. E poi, ricordate, la vicenda dei Santoleri. Simone scrive un libro, unico sorlievo, vorrei farla finita. Sotto processo per l'uccisione della mare, sono stato cancellato. La mia morte farebbe felici tutti. Andiamo allo sport adesso. Ovviamente partiamo dal Pescara, Palmiero è pronto in regia contro il Trapani. Torna a vestire il 4-3-2-1, l'abito fatto su misura per questa squadra. Il centrocampista è disponibile a riprendere il suo posto all'interno della manovra Biancazzurra. e lo spauracchio. Castori ricomincia proprio dallo stadio adriatico. Ci sono dei precedenti, non proprio lusinghieri del Pescara, contro Castori. Per esempio, come quando asfaltò con un pesante 0-5 Biancazzurri alla guida del Carpi, che a fine stagione conquistò la storica prima promozione in Serie A. Insomma, ci sarà da battere, oltre che il Trapani, anche il tabù Castori in basso. Intanto gli Sharks giocano ad Udine, ancora senza Menalo. All'andata i Friulani espugnarono il Palamaggetti, pronto Oliva alla terza presenza. Rimaniamo sul messaggero, andiamo avanti, andiamo in Serie C. Teramo, i gol subiti come lo scorso anno. Un dato curioso ha caratterizzato le prime 19 partite di questo campionato, ma nella passata stagione, con gli stessi match bianco-rossi, erano quindicesimi. Gli altri numeri però sono migliori. Nel ritorno si punterà ad entrare nei play-off. In Serie D, Mergiotti, nuovo Chieti. Adesso mi aspetto tanto. Il presidente è carico, il derby sarà una gara piuttosto difficile. Ci sarà l'impegno domani a Pineto contro l'Avezzano. E a proposito di Avezzano, andiamo in casa a Biancoverde. L'Avezzano torna unito. Il progetto continuerà, stretta di mano tra Palace e Mister Liguori. Con i teatini esordirà anche Camerlengo, che viene proprio dal Chieti. Giulia Nova con un De Marchi nel motore italo-brasiliano, 31enne Ugo De Marchi, che ha iniziato la stagione a San Buceto in eccellenza. Andiamo, torniamo sul centro per vedere. Ecco qua, ripartiamo dalla Serie B. Anche qui, come vedete, Pescara all'esame. Castori, Borrelli e Bettella al rientro. Domani il Delfino sfida il Trapani, guidato dal tecnico, che nel 2014 gli rifilò 5 gol al timone del Carpi. Zauri torna al 4-3-2-1. D'altronde lo aveva detto qualche giorno fa, la festa di Natale. Proprio in virtù del fatto che siamo sotto le feste, l'albero di Natale, il 4-3-2-1, aveva detto Zauri, poteva essere più di un'idea. Rilancia Palmiero a centro campo. Partita anche di qualche ex. Come vediamo, in campo gli ex Fornasier e Pettinari. In basso, Operazione Bomber, di cui va la ricerca il Pescara. E ci sarebbe Moreo in pole position. L'attaccante dell'Empoli diventa la priorità del parron Sebastiani. Il nodo ingaggio è un ostacolo. Al via il Valzer delle punte e Brunori ha tanti stimatori, ma il Delfino vorrebbe tenerlo in 5 verso l'addio. Nella foto come vediamo Stefano Moreo, che è il primo obiettivo per il Pescara, che ha avuto qualche stagione fa un'esperienza in Abruzzo, ma con la maglia del Teramo. A proposito di Teramo, cambiamo pagina, che ha un'idea per l'attacco, ma non è ovviamente Moreo, ed è quella curiale. Cianci invece può partire. Piace la punta del Catania. Alessandria su Martignago, blindati Piacentini e Viero. Si cerca un terzino sinistro. Verso il mercato di gennaio, chi resta? Quelli che sono in dubbio e gli obiettivi. In basso per i dilettanti, Stafa torna alla Bacigalupo, Esposito e Forese alla Torrese, Tucci al San Salvo. Serie D, Franchi, Avezzano mi hai mandato via, ora voglio batterti. L'esterno del Chieti sfida il passato, fatto fuori senza un motivo. Adesso sogno di rifarmi. Un gol nel derby per rifarmi. preso intanto Camarà. Notaresco si aggrega Serraiocco. Salvatori dice, un 2019 straordinario Federico Serraiocco che potrebbe diventare il nuovo difensore dei pali della porta rosso-blu. In casa Avezzano, i marsicani schienano subito Camerlengo, l'ex Nero Verde al debutto. Solo 50 biglietti per i tifosi. E qui è il DG Iacovitti dell'Avezzano con Lorenzo Mennini. L'ultimo arrivato va stese, pollace, ancora i box, mentre Esposito ce la fa. Andiamo a vedere la pallacanestro, perché Jones dice, a Udine sarà battaglia, l'americano avverte la Saporiveri Rossetto, loro sono forti, sarà un banco di prova importante. domani si va in Friuli. Bene, questa era l'ultima notizia per questa mattina. Io vi ricordo l'appuntamento con la prima edizione del nostro telegiornale alle ore 14 e mattino 6 invece torna lunedì, perché domani è domenica, domani grande giornata di sport sul nostro canale, sul canale 14 del digitale Terresa. Assolutamente da non perdere, ferma la C, ma seguiremo ovviamente la Serie B con Pescara Trapani e tutta la giornata di Serie D. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona giornata. A me non resta che